rispondo alle domande testori è meglio per lei hai capito che rischia da 8 a 20 anni di reclusione si testori ha ammazzato lei miroslav lascovic se mi sbatte il processo è finita non me lo posso permettere un posto è pericoloso questo soprattutto se non conti più un cazzo devi chiedere il trasferimento è l'unica soluzione che vuoi liberare di me testori abbiamo bisogno di te mi hanno chiesto di tenere d'occhio un detenuto è una giusta causa solo che c'è qualcosa che non mi torna le ho già detto che stanno cercando di caso mi dica la verità glielo sto dicendo la verità lo sapete anche voi di innocente lo volete incastrare ma quel problema non è l'innocenza di mancuso è la tua la storia non è un stupido mi state chiedendo una cosa è possibile bruno non ci scherzare con questi mi raccomando crede di poter fare quello che vuole qui dentro anche far morire una persona un'altra non puoi metterti contro di me questa non è più casa tua questo non è più il tuo carcere noi siamo pronti e a voi noi siamo pronti